Lei mi chiede di anticiparlo, ma nel Movimento 5 Stelle funziona in questi termini, si discute ampiamente, avevo fatto già una riunione ristretta, stasera adesso sto entrando in un'assemblea congiunta di tutti i parlamentari, dopo anticipo che voglio estendere questo dibattito anche a tutti i nostri iscritti e quindi vedrete che già questa sera verrà fuori una proposta molto articolata all'esito di un ampio dibattito sereno del Movimento 5 Stelle. Ci piacerebbe farlo ovviamente, ci prenderebbe un po' di tempo per farlo, ma mi piacerebbe anche coinvolgere gli iscritti.